Sì, grazie, come lei pensi sono troppo belle, perché si capisce... Massimo, non mi puoi lavorare a Poros, perché non lo so, tuoi se tuoi? Ma finale no, però se io la cosa che il momento devo fare, non posso fare, io sto continuando a riflessere. Ah, non mi puoi lavorare, ah boh, però io continuo a cercare di. Cazzola che adesso potrò andare in ufficio. Sì, dai dai. Oh, la fine, la fine. Molto calore. Se vuoi un po' d'acqua è bevuta la mattina. Grazie. 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 Grazie.